Il futuro Tuku e Cileno sono collegati se emerge Correa. Il ritorno di Sanchez sarebbe diventato realtà dopo che i segnali inviati al management Nerazzurri. Mancano. Sull'ex Lazio. L'interesse concreto di Marsiglia che ha già avuto contatti con l'entourage argentino correre. Sanchez in. Questo potrebbe essere lo scenario attende i due giocatori. Con l'argentino che chiede più spazio e il Cileno attende solo un segnale per tornare. Hai bisogno. Della vendita di Correa. Sanchez bis è possibile. Marsiglia e Cagliari su Correa la conferma che Sanchez vuole solo l'inter proveniva dallo stesso. Marotta pochi giorni fa ha lanciato segni di ritorno. Questo è vero. Ma come trasformare tutto questo in una negoziazione di mercato? Anche prima del Cileno e dell'Inter siete intorno a un tavolo. La necessità dei Nerazzurri è di dare nella Correa Tuku. Con l'ex Lazio che oggi sembra essere fuori dal progetto tecnico di Inzaghi. C'è la volontà di soddisfare l'argentino. Marsiglia che ha preso Marsiglia primi passi il contatto diretto gli agenti del giocatore. Ma non ancora Inter.in Italia c'è invece Cagliari una soluzione che al momento non è cittagiocatore.